Un commento a questo reddito di inclusione? Ma è un primo passo, credo che sia stato portato avanti da pezzi della società civile che lavorando e stando e ospitando, condividendo i percorsi delle persone più fragili sono posti anche a un problema di come renderlo un punto di partenza per politiche sociali inclusive. Quindi noi lo individuiamo come un primo passo, insufficiente, ma comunque un primo passo. In questo periodo nel quale tutto si critica ma non si trovano anche i buoni segnali, e questo è un buon segnale, bisogna avvolgerlo adesso in un impegno culturale, di capacità per trasformare questo piccolo inizio in una capacità di dare e di porre al centro la questione dei deboli nelle politiche sociali che non possono essere solo politiche di ordine pubblico.